Backstage, Valentina Ruggeri alias... Ciao, sono Chiara, sono Chiara di Fuori Onda, sono... Fuori Onda che è? Fuori Onda è una web serie, è una web serie che si gira in una radio, come potete vedere dai microfoni, e in pratica noi siamo degli speaker che chiaramente fuori onda si lasciano andare a... come dire, a tutte le opinioni inconfessabili, a tutto quello che in radio non viene detto, quindi anche se in radio sentite le notizie, quelle ufficiali, Fuori Onda, gli speaker commentano con le proprie opinioni, quelle che... Ma Chiara chi è? Allora, Chiara è una donna forte, cazzuta, una tipetta simpatica, ma molto corretta, seria, con una fortissima etica professionale, ed è, come dire, è la spalla di Dado, sono un... Dado che è la spalla di Chiara? Diciamo che sono una coppia artistica... Sono due spalla... Sono come, li ricordate Fabio e Fiamma, come Linus e Nicola, insomma... Come Morch e Mindy... Come Morch e Mindy, ci sono le coppie artistiche e loro funzionano a coppia. Che vita privata ha, Chiara? Lei ha una vita privata, diciamo che è single, è single ma è una che in realtà non si racconta tanto, non vuole dire in giro nulla di sé, non ha voglia di avere coinvolgimenti emotivi, non ha voglia di avere nessun tipo di... Quindi è successo qualcosa, scopriremo che c'è un mistero dietro a questa sua... Diciamo che potrebbe essere forse una donna scottata dalla vita, forse ha avuto delle delusioni in passato, chi può saperlo? Sicuramente è una che mette un muro tra sé e gli altri. E quindi, diciamo che al costante avvicinamento di Dado, che comunque, diciamo, è un po' un provola, insomma... Ma perché lui ci prova con tutte, perché non c'è verona? Ma secondo me no, secondo me verso Chiara c'ha un po' di palpito e quindi... Però il povero Dado al momento non se la passa bene, non se la passa bene. Questo vabbè, questo di default, se no sarebbe come Linus, come Charlie Brown, se facesse un grande colpo di baseball Charlie Brown non sarebbe più Charlie Brown. Ma è chiaro, chiaro, i personaggi, gli eroi fragili non possono vincere, no? Esatto. Dado è il tipico eroe, ma... Tu sei più perita patti. Io sono più perita patti, mi piace. Ora vorrei sapere da te, naturalmente c'è il progetto di non essere sempre in radio, ma di raccontare anche nel privato questi digeri che cominceranno a vagare per Roma, per parchi, per bar, per locali, si vedrà la loro casa, si scoprirà che è avvenuto un delitto. È avvenuto un delitto, sì, di cui chiaramente nessuno sa nulla e di cui non vi svelerò niente. Però è importante che sappiate che, insomma, la radio è il luogo di lavoro, ma piano piano ci stiamo spostando perché chiaramente questi personaggi, fuori onda, hanno una vita. Ecco, quindi fuori onda non è semplicemente quei due minuti tra un intervento radiofonico e l'altro, ma è anche tutto quello che accade fuori dalla radio. Ma poi c'è te, proprio te, tu sei Valentina Ruggeri. Io sono Valentina Ruggeri. E Lady Vette hanno, diciamo, travolto l'Italia. Sono una delle Lady Vette, del trio Swing Lady Vette, che appunto sta conquistando il mondo, diciamolo, perché insomma, ormai fra poco verrete invasi nelle vostre case dalle Lady Vette. Esatto, e si incontreranno nel mondo fuori onda di Vette, a largo di capo atterati. Esatto, esatto. No, ma arriviamo proprio con i carri armati, rosa, bellissimi, ma carri armati. Ma che bella cosa. E poi niente, sono appunto chiaramente un'attrice, cantante. Io sono realmente una speaker radiofonica e questa è realmente la mia radio. Questa è Radio Chaos Italy, dove io trasmetto ogni lunedì. Perché la radio onda è diversa? Fuori onda è diverso da tutto quello che è stato fatto finora. Sì, è diverso. No, penso che lo sia, per vari motivi. Prima di tutto perché è interattiva. Il pubblico può chiederci di trattare degli argomenti. Quindi, in qualche modo, il pubblico diventa sceneggiatore, diventa autore della trasmissione. Ci vengono fatte richieste, parlate della corruzione, parlate della morte, parlate della libertà, parlate di Dio, insomma. E sono tutte chiaramente tematiche faticose da affrontare. In cui, solitamente, su qualsiasi mezzo, tv, radio, se ne parla sempre in punta di piedi, se ne parla sempre senza andare nella parte scorretta. E invece qua vediamo delle persone che hanno il coraggio, chiaramente perché non in onda, di dire quello che pensano. E ognuno pensa come vuole, nel senso ci sono posizioni anche scomode, che però si possono dire. Cioè, chi dice a me dei bambini non me ne frega un cazzo. Chi dice io a Dio non ci credo. Chi dice io mi faccio le pippe e mi piace. Ognuno, cioè, come dire, prende una posizione netta. Cioè, si dà lo spazio anche a una posizione laica. Si dà uno spazio a una posizione laica, a una posizione non buonista, molto importante. A una posizione vera. Cioè, uno può dire, oh, a me la salsa cubana mi sta sulle palle. Ed è una, ed è rispettabile come... È una posizione fuori da quello che io... È una posizione. Nel senso, solitamente non vengono mai nei media... Patinati e pettinati. Nei media patinati non ci sono le posizioni. Ci sono esclusivamente delle vie di mezzo color pastello che possono andare bene un po' per tutti. Sì, no? Siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene. Ecco, qua non siamo tutti amici, qua non ci vogliamo tutti bene. Noi qua ci incazziamo pesantemente per le ingiustizie, per le cose che non ci piacciono. E non vogliamo insegnare niente a nessuno. Non stiamo dando una morale. Non stiamo dando degli insegnamenti. Stiamo semplicemente raffigurando... Una pluralità. Una pluralità. Un'opinione che può essere, sullo stesso argomento, diversa. Su due, tre, quattro persone. Valentina, secondo te il web deve essere per forza demenziale? Esiste? No, no. Allora, il web demenziale è chiaramente facile perché il web è veloce, è contratto e quindi è più semplice colpire col demenziale. Credo che possa essere anche... Mi piace molto il web sul reale. Penso però si possa arrivare anche ad essere poetici, perché no, sul web. Penso si possa fare informazione in una maniera che in tv non passa e che si possa fare arte. Sembra una parola che ormai sembra brutto dirlo, ma perché no. Il web, essendo un contenitore privo di censura, può essere... può raccogliere tutto. C'è una censura che è riferita solo su quello che è veramente legalmente pesante, sulla violenza che è giusta, però non c'è la censura sulla... Però, per esempio, io propongo una puntata di fuori onda sulla censura, perché, per esempio, ci sono persone che vengono censurate in maniera immotivata o persone che invece diffondono l'odio e non vengono censurate. Perché questo? Perché si parla di segnalazioni. Se io ti segnalo, tu passi per persona faccino rosa che...